Buongiorno, sono stato un po' latitante in questi ultimi giorni, devo dire la verità che tre puntate alla settimana di Matrix, insomma, che finiscono le due, due e mezza di notte perché poi dopo c'è la riunione e fanno un po' di... cioè, rendono un po' difficile fare la segna stampa la mattina presto, ma andiamo avanti. Allora, quali sono i temi di oggi sui giornali? Di oggi sui giornali c'è ovviamente il grande tema ancora dell'albergo di Rigopiano e poi c'è la marcia delle donne contro l'elezione di Trump. Bene, io partirei da quest'ultima, non fosse altro che è il tema che meno conosciamo perché è venuto ieri più fresco, anche se meno drammatico rispetto a quello di Rigopiano. Allora, la marcia delle donne, oggi basta leggere il reportage entusiastici di tutti quanti i giornali italiani, finalmente le donne prendono, senza di loro non si può governare, il tema la buttano sulle donne, ma il tema fondamentale è la critica al governo Trump che è stato eletto dagli americani, è stato eletto dagli americani, bisogna rassegnarsi e bisogna soprattutto rassegnarsi a capire che nelle piazze non si fanno le maggioranze e questa è una cosa che i perdenti di sinistra soprattutto non ci stanno. La rivoluzione inizia oggi e da qui. Quale rivoluzione inizia oggi e da qui? Quella dei black bloc o quello delle donne? Quella dei manifestanti come dice giustamente Sallusti che ci saranno pacifici quando ci sarà la prima bomba di Trump e dell'esercito americano o quella degli immigrati messicani che faranno giustamente le loro manifestazioni quando Trump concluderà il muro costruito dai democratici e continuato da Bush? Beh, insomma, il vero punto lo dice giustamente Sallusti, cioè con la piazza si cerca di scalzare un governo che non ci pensa per niente essere scalzato. È appena arrivato e già ci sono le donne che si lamentano, ma le donne intese non come donne, è evidente che un governo senza donne non può esistere, non può esistere la vita senza le donne, ma il punto fondamentale è che si cerca una alleanza per bene, carina, educata, fatta da queste donne e sapete chi è il rappresentante delle donne che ha parlato ieri dal palco? Michael Moore, che mi sembra la donna peggiore di tutte quante, Madonna, se lei è la rappresentante delle donne e Scarlett Johansson, cioè secondo voi il tema fondamentale della critica a Trump sarà fatto da quella cretina della signora Madonna, quella che dice che avrebbe fatto pa 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 a chiunque avesse votato contro Trump o Scarlett Johansson, le cui posizioni politiche sono molto molto chiare e il suo impegno in politica lo è altrettanto, giura mezzo giornata all'anno per farsi vedere da mezzo milione di donne in mezzo alla piazza. A me questo genere di... si candidassero, si candidasse Madonna, si candidasse Scarlett Johansson, prendessero i loro voti, il che non è sbagliato, se non altro Michael Moore fa i suoi documentari di protesta, questi due che cosa fanno? Fanno gli attrici e le cantanti, benissimo, si prendessero i loro soldi come Shakira sballettando con contratti da 300 milioni di euro, come fa Trump? Ma non ci rompessero le balle, veramente non ci rompessero le balle, perché ieri il vero pezzo lo ha azzeccato Maurizio Molinari sulla stampa, bisogna leggerlo, perché dovete sapere che nella foto dietro alla schivania, che fa un po' impressione vedere Donald Trump da apprentice alla schivania per noi europei, perché c'è un percorso politico per diventare il capo dell'America, pensiamo, in realtà non c'è negli Stati Uniti. Beh, in quella foto è scomparso il busto di Martin Luther King, è arrivato quello di Winston Churchill. Bene, il busto di Martin Luther King, al posto di quello di Churchill, l'aveva messo Obama, era stato un suo cambiamento, chiaramente era stato un suo cambiamento, il primo presidente di colore alla Casa Bianca mette il grande eroe delle battaglie per l'uguaglianza tra i colori e tra le razze negli Stati Uniti, comprensibile. Ma cosa fa Trump? Restituisce il busto di Churchill alla sua posizione originaria, ma il busto di Churchill che cosa racconta? Racconta che gli Stati Uniti riprenderanno quel legame storico incredibile che hanno sempre avuto, sapete con chi? Con la Gran Bretagna della Theresa May, la Gran Bretagna della Brexit, quindi non ci rompessero le scatole. La storia è purtroppo per noi europei un po' diversa da quella che ci raccontiamo, non c'entrano le manifestazioni delle donne, le manifestazioni dei buoni contro la Brexit, le cagate su Spinelli, Adenauer, tutte queste minchiate. Americani e inglesi riprenderanno quell'asse che inaugurò dopo la Seconda Guerra Mondiale Churchill e non solo Churchill, per cui o ci stiamo in mezzo o stiamo completamente fuori. Qualcuno mette in relazione la sconfitta della Beretta, armi, 580 milioni di contratto, c'era ieri su Repubblica al nuovo arrivo di Trump. Questo è l'idiozia degli italiani, non degli italiani, dei commentatori, perché gli italiani non sono idioti per niente. Quella commessa è stata persa un anno fa e ci rompono le balle sul nazionalismo di Trump. Già un anno fa avevano prediletto nell'amministrazione Obama, avevano prediletto l'azienda svizzera con fabbriche in America, posto che le fabbriche in America ce l'ha anche la Beretta, soltanto per darvi qualche elemento di contesto su quello che avviene. Insomma, Madonna, capito? Madonna, Madonna. Io se penso che Madonna ieri era la leader della contestazione a Trump, mi viene da rendere sempre... mi lo rende sempre più simpatico questo Trump, posto che obiettivamente poi sulle sue ricette economiche ci sarà da discutere a lungo, soprattutto per quelli che come noi liberali la globalizzazione pensano che debba essere governata, ma sono certamente contrarie all'idea che sia annullata. A me, ve l'ho detto cento volte, vabbè, insomma, ci siamo capiti. La scrittrice che oggi ovviamente su Corriere della Sera dice vorrei scappare da questo paese, ma la differenza tra una scrittrice americana e una scrittrice italiana è che la scrittrice italiana, o come si chiama, bottura, non se ne è andato via il cuoco che diceva che se vinceva il referendum si andava via in America, no? Sta forse ancora qua in Italia? No, no, quel cuoco sta ancora in Italia. Beh, la differenza tra un cuoco, una scrittrice italiana che dice se vince Renzi o Berlusconi o me ne scappo e un'americana è che sono tutti e due cretini dicendo che scappano dai loro paesi, ma quell'americana dice una cosa purtroppo vera per loro dice l'americana però dove cavolo vado perché comunque il mondo verrà cambiato da Trump mentre il mondo non verrà cambiato da Renzi o da Berlusconi. Questa è la differenza tra uno scrittore un intellettuale fighetto americano e quello italiano, che tutti e due vogliono scappare ma quello italiano può veramente scappare e qualcosa gli può cambiare nella vita quell'americano capisce che l'America dominerà il mondo nei prossimi anni questa è una triste differenza tra noi europei e gli americani l'ultima cosa riguarda sta minchiata delle marce delle donne, guardate mi fa impazzire l'ultima cosa è si può fare polemica o no sulla questione dell'albergo di Rigopiano ovviamente la natura è più forte dell'uomo e adesso potremmo dire che l'albergo è stato fatto male i soccorsi sono stati fatti male, si può dire tutto quanto ma purtroppo la natura è più forte dell'uomo la natura è anche il sonno di quel medic, di quell'autista che ha ucciso sostanzialmente con il suo colpo di sonno 16 persone sulla 4, certo bisognava rispettare le leggi, 3 ore di riposo, quello che volete voi la natura è più forte dell'uomo, la nostra presunzione di essere Dio in terra è sbagliata ci sono le slavine, c'è la neve, c'è l'infarto, purtroppo c'è tutto, noi non siamo Dio in terra detto questo qualche cosetta si potrà dire oggi i giornali dicono che la seconda turbina c'era a Pescara ma il punto vero non è prima o seconda turbina ma a voi vi sembra normale che la protezione civile me l'ha detto Bertolaso l'altro giorno al telefono a me individualmente non abbia concentrato tutte le turbine d'Italia nella zona centrale dell'Italia non si toglie e questo non vale per l'emergenza di Rigopiano questo vale per la vita di centinaia di migliaia di persone che in Abruzzo e nelle Marche vivono di merda perché sta rinevicando ed è arrivata la neve fino a 100 centimetri vivono di merda come un secolo fa non è che cambia molto ma la tecnologia e la protezione civile avrebbe potuto migliorare la loro vita sapendo preventivamente che si potevano spazzare le strade prima a tre metri insomma non è il senno di poi è che la prevenzione della protezione civile un tempo in questo paese c'era e quando si previene nessuno fa i titoli dei giornali nessuno se ne accorge perché non succede nulla quindi non è fico prevenire chi è che mai ti dirà l'eroe l'eroe è quello che salva la vittima di un incidente l'eroe invece per me è quello che previene un incidente che previene la morte di un cardiopatico che previene la chiusura di una strada quello è l'eroe in un paese normale i nostri eroi sono quelli che invece salvano le persone che stanno morendo dopo che c'è stato un incidente catastrofico ecco questo è il tema il tema non è tanto polemica o non polemica e dare una concezione diversa all'eroismo l'eroismo è chi previene non chi cerca con abnegazione di salvare il salvabile va bene la protesta dei parenti è l'unica cosa che però secondo me oggi vale la pena raccontare oltre all'Ener sapete perché vale la pena raccontare la protesta dei parenti? perché li hanno presi per il culo perché io sono stato tre giorni e ho fatto il giornalista a Matrix e ho cercato tutti i giorni di capire quali erano le cose e hanno raccontato le autorità l'unica cosa che devono fare era il rispetto dei vorti e delle vittime e non sono riusciti neanche questo a farle non sono riuscito neanche questo a farle oggi c'è sul Corriere della Sera l'intervista di quel genitore che dice mi hanno preso per il culo sul mio figlio prima dicendo che c'era prima che si era salvato poi che non si era salvato insomma queste robe qui sono degli errori imperdonabili non si sbagliano i nomi e i cognomi delle persone che sono morte o rischiano di morire noi giornalisti lo facciamo spesso le autorità non lo devono fare ma anche noi sbagliamo l'ultima cosa l'intervista al responsabile dell'Enel io voglio bene all'Enel ho cercato anche di difenderla in trasmissione ma quel cazzo di Enel quando si permette di fare un'intervista come quella di oggi mi fa vedere il sangue al cervello cioè l'Enel sapete che cosa dice oggi nell'intervista? che è la colpa la colpa è di quelli che non hanno pulito le strade e loro non possono mettere a posto gli impianti scusate scusate andiamo in ordine la prima colpa è di quelli che non hanno pulito le strade o la prima colpa non è la vostra che non avete messo in manutenzione in sicurezza le linee ad alta tensione vicino a alberi e boschi dove sono caduti sopra gli alberi come hanno detto negli ultimi giorni vi ho difeso fino ad oggi ma se cercate di trovare la colpa negli altri beh questo veramente è uno scaricabarille schifoso schifoso non possiamo arrivare a rimettere a posto i nostri tralicci e come mai i vostri tralicci sono caduti? e come mai 60.000 persone sono senza sono senza energia elettrica va bene va bene 250.000 utenze di energia elettrica diciamo a rischio e quelli dicono che il problema è che non ci sono le strade pulite certo oggi non ci sono le strade pulite ma ieri quando le strade erano pulite perché non avete tenuto in sicurezza le vostre le vostre linee vabbè vi saluto vi do appuntamento domani abbiamo fatto oggi la bellezza di 11 minuti e 33 ora è buio non so perché e speriamo vabbè ci vediamo domani ciao